ciao a tutti sono francesca comincio così il blog allora oggi è il 5 di gennaio e questo è un vassoio di biscotti che io stamattina ho cotto ho fatto il cotto e questo è un altro uno per il mio suocero e l'altro per mia suocera e adesso sto anche facendo i waffle mentre qua c'è l'impasto per i waffle è una teglia di waffle qua un'altra teglia sto facendo due e due perché così riesco a dividerli in modo equo eccoci qua io sono ancora qua a fare i waffle qua ci sono i nostri che sono quelli venuti un po peggio i primi che ho fatto infatti e qua ci sono quelli che domani porto i miei suoceri ne mancano tre qua e tre qua e poi gli altri rimangono tutti a noi ecco eccoci qua è il 6 è mezzanotte passata per quello che dico che è il 6 e io ho dormito un po nel divano di sotto stasera perché ero stanchissima e adesso invece mi strucco e vado a letto perché mi sveglio alle 6 così mi faccio la doccia 6 6 e mezza anche mi faccio la doccia e poi faccio la befana effettivamente ci becchiamo dopo eccoci qua è il giorno dopo cioè oggi è il 6 e adesso vado a mettere le calze sulla tavola ecco qua allora continua così il blog oggi abbiamo comprato il pc era in sconto abbiamo pagato 249 euro ho preso anche il mouse che non so dov'è che l'ho messo abbiamo ordinato anche la lavatrice che anche quella lì era in sconto marca xd pagata 359 euro quindi non poco però hanno detto che è buona e poi non ho volgato molto oggi perché mi sono voluta la giornata sapete che quando io avevo i miei suoceri cerco di godermi al massimo la giornata perché mi trovo bene con loro così e poi c'era anche mia nipote mi trovo molto bene anche con i miei cognati quindi non sto tanto lì a vloggare e niente vi volevo far vedere il pc che abbiamo preso adesso io quasi quasi lo apro e poi comincio a configurarlo allora sono riuscita un po togliere l'adesivo ma vabbè non so è nylon ma è durissimo da tagliare e adesso aspetto il mio compagno per aprirlo e poi lo comincerò ad usare eccoci qua si ricomincia con il solito tram tram ieri non ho bloggato nulla perché mi sono voluta godere l'ultimo giorno a casa e ci sono novità all'arrivo probabilmente domenica andiamo a prenotare perché ho visto una cucciolata con un cucciolo che imprinting ecco in poche parole quindi domenica andiamo a prenotarlo giovedì questo si libera l'appartamento quindi ci saranno dei weekend un po infocati adesso 23 weekend e adesso tra due minuti entro e scendo e poi vado a lavorare entrano perché ancora deve arrivare la bidella ad aprire la scuola ci becchiamo dopo questa è la mia colazione waffle e nutella eccoci qua continuo così alla fine domenica non andiamo a prenotare il cane perché preferisco o prenderlo da un'altra parte o aspettare adesso vediamo e oppure lo prendo lì da loro però quando quando ci vado ritiro il cane pago il cane e basta senza bisogno di prenotare adesso sono qui macchina che aspetto che apro la scuola e basta sono qui al caldo se sentite questo rumore e riscaldamento che ce l'ho al massimo ci becchiamo dopo eccoci qua oggi è giovedì ieri non ho bloggato molto anche se potevo bloggare perché ho visto un video che è stato girato in georgia forse qualcuno ha già capito di che video si tratta e questo video mi ha un pochettino scombussolato un po ecco oggi invece bloggo perché ho delle cose da fare in teoria però questo è tutto da da vedere perché sono cose comunque molto veloci devo andare in comune compilare un foglio poi devo chiamare dove lavoro perché mi devo licenziare perché ho trovato un altro lavoro e quindi mi devo licenziare quest'altro lavoro mi viene molto più comodo rispetto a dove rispetto a questo qui perché è molto più vicino dove andrò ad abitare tutto ci becchiamo dopo allora continuo così il blog oggi è venerdì ancora e siamo appena tornati qui dai miei perché abbiamo già scelto il cane che praticamente prenderemo tra otto giorni un bellissimo golden retriever che si chiamerà balù e adesso voglio mangiare un biscotto con voi ecco qua voglio assaggiare questi con voi adesso ne tiro fuori uno buono morbido buono buono allora ragazzi siamo nell'appartamento nuovo io adesso vi faccio vedere come l'appartamento vuoto perché c'è solo qualche mobile questa è l'entrata questo qui è la zona pranzia anche salotto qua ci sono le cose già per il cane per il gatto che l'ho già comprate e poi adesso vi faccio vedere tutto il resto qua c'è la camera nostra che arriverà il letto qua c'è la camera che sarà della bimba ma adesso vi faccio vedere anche la cabina armadio poi qua c'è l'armadio muro antibagno e bagno adesso adesso mi metto a dare una pulita veloce perché a lunedì vengono a portare a montare la cucina e quindi da una pulita veloce nel bagno e poi volevo far vedere anche quello che ho preso per il cane che arriverà sabato allora continuo il blog così anzi direi che lo chiudo così voglio assaggiare con voi faccio mia figlia che sta tossendo uno di questi oreo qua che abbiamo preso da action se non mi ricordo male adesso lo apro dovrebbe essere biscotto alla vaniglia ripieno al latte eccolo qui così non sono male però preferisco quelli normali perché c'è il contrasto tra il cacao e la crema latte sicuramente di ricomprerei però non non è che se non c'è di o li vado a comprare ecco detto questi però vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video ciao